Oh bene ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ce l'ho fatta alla fine, no non ho fatto niente, dopo dieci minuti ce l'ho fatta A capire, andiamo di qua Di qua, ok Ancora da questa parte Aspetta, dobbiamo attivare questo, oggetti, chip chiave due, questo Ah certo, prima del, ah si perché là c'è la porta numero uno, questa qua è la numero due Quindi Questa, usiamo il chip, dov'è? Questo Ok, proseguiamo, vediamo cos'è questo Sì, grazie E siamo arrivati all'area terza energia S2 Quindi al generatore Non so Ah si, è il generatore Quindi adesso dobbiamo attivare sto generatore Vediamo eh Eh, di qua Controllo terza energia Allora Un sottopanello per il terminale che controlla il generatore Ok Andiamo lì, non c'è il pass per quello lì Per l'ascensore Un terminale che controlla il generatore Vuoi attivarlo? Sì Vediamo cosa succede Ah, quindi dobbiamo collegarlo Andiamo in questa stanza Lì c'è una persona morta Sulla parete c'è una mappa dell'RS2 Sì, grazie Vediamo questo coso Schermata dell'altro che mostro lo stato giusto Sì, questo qua mi sembra Allora Oddio, ancora questo? Eh, vediamo Così Mi sembra giusto Poi Poi questo Eh, non lo giriamo Poi No, aspetta eh Sì Sì, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Quindi Andiamo Di qua Attivare il generatore Mi sembra più facile Questo qua Degli altri Attiviamolo E' attivato E' attivato Ok Ok Eh, ho sentito gli spari Andiamo con la cartella Sì Vabbè, se volete Se volete leggerlo Basta che fate pausa E lo leggete Non c'ho tempo per leggerli No Passaggio Lavoratore privato Ah, ma quello Stronzo là E' il Kirk Lì Dottore 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 grande guile almeno fai qualcosa la energia ha la capacità di trasferire l'espace seleccionato a un continuo alternativo ma io era incorrecto l'espace non era trasferito era intercambi a mettere in termini che anche tu puoi capire la energia terrestre ha la capacità di trasferire un occhio in l'espace con uno da un momento diverso cosa? sì sono arrivato a queste conclusioni dopo la prossima esperienza hai visto i effetti te stesso quei bambini stanno occupando l'espace questa facility è locata in quasi 65 milioni anni fa certo quindi questa è la forma che questi dinossauri avevano in tempo precisamente e questo è quello che ho fatto uh huh e quant'altro persone hanno trasferito prima che hai fatto questo chi ne importa i numeri sono abbastanza irrelevante let's just say che c'erano c'erano che c'erano che c'erano che c'erano che c'erano c'erano che c'erano che c'erano che c'erano sess'ingigiondia in una della rendita da di ben bene ora tu invece noi vivi 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 C'è l'elettronica di livello massimo. Sempre io, eh? La c'è l'elettronica di livello massimo, anche il tuo T-Rex. Let's get into this situation under control before charging live. Here, take this. Questo contiene i'i d'intrani e stabilizzazione. Io stai per l'elettronica di livello massimo. L'elettronica di livello massimo è non troppo da qui. Vi dovremmo rliere le parti e assemblare le dispositi. Non essere ridicoloso. Regina non ha la tecnologia tecnica per questo. Non nemmeno se tutte le parti giuste sono lì. L'elettronica di livello massimo. È troppo pericoloso lì. L'elettronica di livello massimo. È la tua chiamata, Regina. Sei l'elettronica che deve fare questo. Ok ragazzi, vi lascio qua con questo enigma e le opzioni. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!